La Sicilia ritrova un po' le sue radici, qui Palermo, come Siracusa, le radici cristiane, come vivevano e soprattutto a me interessa sempre molto le catacombe perché in fondo noi vediamo anche come era impostata la comunità cristiana, perché i libri di come vivevano i cristiani, tolto gli atti degli apostoli non ne abbiamo. Tutte le scoperte le troviamo sempre nelle catacombe attraverso lapidi e lì nelle lapidi si vede magari i ministeri che svolgevano, cosa facevano e soprattutto anche il senso dell'aldilà, come era vissuto. In fondo è qui che troviamo la vera fede, quella genuina, poi poco per volta hanno fatto i concili eccetera, hanno definito, ma la vera fede la trovi proprio qui in questi. Amerei molto che facessero anche loro qualche serata con attori che descrivano la storia e la vita di quello che avveniva qui dentro, magari con tre o quattro attori che girano con i suoni, il flauto eccetera e vedrà come potrebbe essere una cosa molto bella. E' un sito importante anche come chiesa perché ci fa riscoprire le radici cristiane della nostra popolazione, questo sito va dal IV secolo, quindi dopo la pace di Costantino fino all'VIII secolo, Carini è stata sede di Vescovi. E quindi mi pare importante che questo sito finalmente sia reso fruibile grazie alla collaborazione della Università con la Pontificia Commissione d'Archeologia Sacra. E la di oggi si è impegnata soprattutto a sostenere questi giovani che hanno voluto impegnarsi a rendere fruibile questo sito. Ecco speriamo che il prossimo anno anche ci saranno tante scuole che potranno visitare questo sito, che aiuta i ragazzi a scoprire le radici cristiane della nostra terra, a contemplare anche queste catacombe con alcune bellissime anche immagini come le immagini dei re magi, come l'immagine del bambino con il cavallo. Ecco veramente anche commovente entrare in queste catacombe e vedere come soprattutto venivano curate le tombe per i bambini. Quindi sono molto contento che finalmente sia arrivato questo momento. Mi auguro che ci possa continuare a essere questa collaborazione anche per sistemare l'ambiente esterno in modo tale che questo ambiente possa essere fruito non solo dalle popolazioni locali ma anche da turisti che vengono dall'Italia e dall'estero.